...dall'altegrado che impedisce di sviluppare tutte le sue potenzialità culturali, sportive e universitari per liberare cavalleggeri dall'umiliazione, per avere l'esercito alle sue forze, la sicurezza negata liberiamo i nostri quartieri del movimento 5 Stelle, grazie Salve a tutti, grazie mi chiamo De Rinaldi Serevigio e vorrei attirare l'attenzione di tutti i bagnonesi, chiunque va al voto il 5 giugno che vota Movimento 5 Stelle di non fermarsi lì, di partecipare, perché noi non siamo una squadra di calcio non ci dovete fare, dovete essere voi la squadra, dovete essere voi il cambiamento che volete nel quartiere più siamo, più rumore faremo e più riusciremo a conquistare le nostre necessità, grazie a tutti grazie